benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video siamo tornati su age of civilization e oggi siamo qui con randomia la serie dove tutto è un caso come avrete visto magari nelle due serie precedenti se non lo avete fatto vi invito a farlo adesso non siamo padroni del nostro destino sarà il fato a decidere per noi quindi intanto scegliamo uno scenario casuale cliccando qui lo scenario non è dei migliori per quanto riguarda la sfida una sfida anche perché potremmo essere il nord o il sud dell'america va bene sarà una randomia abbastanza istantanea credo che forse in una due puntate ce la possiamo fare adesso credo farò 5 randomizzazioni ad occhi chiusi e poi partiremo quindi chiudo gli occhi ho il dito pronto nel tasto vi chiedo tanti mi piace per questa terza stagione di randomia e partiamo prima aspettate che non ho cliccato prima seconda terza quarta e quinta spero mi sia uscito l'unione del nord maria speriamo bene vado a vedere zoomiamo un attimo no potevamo andarci molto meglio ma ci siamo beccati loro ovviamente la difficoltà sarà difficile per adesso ritorniamo a difficile e siamo partiti con l'unione degli stati bene non so se possiamo colonizzare questa zona no queste zone neutre si possono conquistare o no probabilmente ci delle truppe no colonizzare mi sa di no va bene il nostro obiettivo quindi sarà riuscire ad invadere le terre del nord prima che le terre del nord riescano ad invadere noi sarà una serie molto rapida a quanto pare quindi non durerà neanche troppissimo ottimo molto bene tutte le truppe del sud sono già arrivate al nord attenzione perché i nordisti stanno già colonizzando e anche velocemente oserei dire sì ci hanno lasciato con un palmo di naso e hanno conquistato il conquistabile già guardate qua hanno guadagnato tutti i territori che volevano arrivati a questo punto ci resta solo una cosa da fare provare a combatterli noi bene 3000 truppe non so se basteranno però voglio intanto prendere questa zona ovest quindi serviranno circa 5000 truppe qua consideriamo saranno tante credo di sì però io ci vorrei provare mettiamo anche un po un rinforzino qua ok qua van bene le truppe che ci sono ci hanno dichiarato loro guerra attenzione quindi ci dobbiamo sbrigare a piazzare gli eserciti per combatterli aspettate lì dove posso metterne di più però truppe mettiamone di più quindi popolazione reclutabile sarà una serie molto molto veloce come vedrete però il confine ok qua si può reclutare bene vicino washington mettiamo 2000 qua e e ci salute e 1600 qua per il resto con queste truppe qua che abbiamo dovremmo aspettare l'america attacca con un numero abbastanza grande di truppe noi adesso dobbiamo difenderci è iniziata ufficialmente la guerra civile tra nord e sud sarà noi sud adesso vendicarci e attaccare il nord con le truppe che abbiamo si intende con le ultime unità di oggi dovremmo sferrare qualche attacco magari di recupero e di contenimento attenzione perché in un turno riusciamo anche a limitare i progressi del nord che però avanza in questo momento il nord è in netto vantaggio su di noi tuttavia se riuscissimo a dividere le loro zone di comunicazione potremmo già tentare un assalto ad alcuni stati più settentrionali nel dubbio loro anche finiranno le risorse perché non ne hanno tantissime quindi io farei così e vediamo come va qualche attacco timido viene lanciato ma l'america è certamente molto messa meglio rispetto a noi forse 1500 truppe qua sono sprecate quindi ne manderò un po di meno detto ciò mi muoverei verso la conquista di queste terre e con gli ultimi soldi andrei a prendere 2000 truppe attenzione questo è un turno completamente fallimentare o quasi per i nostri amici confederati confederati siamo noi per i nostri unionisti diciamo così anche perché sono finiti i soldi quindi posso provare anche richiedere due tre debitoni ma rischiamo di fare danno se sbagliamo quindi prendiamoci tutti i debitoni sono rimaste 0 3 stelle approfittiamone per spostare delle truppe indietro attenzione perché i confederati comunque avanzano beh è una guerra un po impari in questo momento ma dobbiamo rifarci tutte queste le facciamo tornare indietro e continuiamo con la conquista di questa zona e anche di questo stato di cui al momento non ricordo il nome sicuramente a nord stanno facendo quello che piace a loro il devasto però per il resto stiamo combattendo meglio noi anche perché adesso qua andiamo abbastanza pesante con le ultime truppe che riusciamo a prendere e per il resto si si torna a sperare ma detto ciò vediamo come vanno gli ultimi assalti diciamo che adesso il nord non avrà molte alternative se non soccombere spero perché qui faremo avanzare le truppe qui le spostiamo e qui adesso dobbiamo conquistarli da ovest a est come di preciso non lo so però lo dobbiamo fare magari iniziamo ad azzardare un tenue assalto qua molto bene in questo turno il nord non sta facendo grandissimi passi avanti forse fare la guerra così presto non era proprio il caso per loro detto ciò queste truppe le mandiamo in due turni qua e queste le mandiamo a ovest visto che non serve più queste le mandiamo a ovest queste le mandiamo a ovest queste le mandiamo a ovest e voi altri dovrete stare solo fermi se non magari far così per evitare problemi riusciamo a riprendere i mongomery la nostra capitale e adesso dobbiamo anche fare un piccolo una piccola ciambellina di fronte alla capitale ovvero assicurare un po di territori in più per evitare brutte sorprese l'effetto ciambellina dovrebbe aver funzionato sì adesso i nordisti li perderanno il loro archiettoso importante di truppe e di territori e noi proveremo con la nostra missione a terminare le sue loro sofferenze non abbiamo più punti quindi per questo turno ci accontenteremo di un po di meno attenzione perché comunque hanno finito in gran parte i territori conquistati anzi per in questo turno entriamo ufficialmente in vantaggio noi quindi ragazzi attenzione perché il nord non sta più messo così tanto bene stanno perdendo anche tutti i loro sacrosanti territori la confederazione adesso dovrà scegliere che fare l'opzione migliore sembra un push selvaggio verso nord piuttosto che la diciamo il consolidamento dei territori appena recuperati gli ufficiali ci danno ragione quindi il recupero dei territori è importante anche perché non dimentichiamo che ancora molti dei nordisti hanno la loro vita intatta e quindi la possibilità di sferrare attacchi a noi quindi anticipiamoli prima che ci ammazzano loro li ammazzeremo noi molto bene 2425 truppe penetrano nel territorio sudista ma un'altra piccola guarnigione sta per attaccare vediamo perfetto arriviamo anche india napolis attenzione e fort wayne molto bene ragazzi del sud stiamo facendo il nostro lavoro abbiamo già preso tanti territori subendo 600 morti in più di loro però è necessario per la conquista di nuovi territori la morte purtroppo in guerra è l'unico modo per guadagnare qualcosa in ambito di territori poi se un generale è forte non fa morire i suoi uomini magari purtroppo però dovrà far morire quelli della schieramento nemico ma tristemente la guerra è questo non possiamo sfuggire dalle sue dinamiche molto brutte adesso vi lascerò pochi secondi per memare perfetto possiamo andare avanti attenzione perché un problema del sud è la carenza di truppe potremmo forse pensarcela per la pace perché al confine qui sono finite le truppe e se finiscono le truppe è un problema quindi io opterei per una pace dove io vado a chiedere tutti i territori della zona conquistata che chiameremo la coda della fenice quindi io vado a chiedere tutti i territori della coda della fenice e loro rifiutano niente il problema è che non abbiamo abbastanza esercito lì quindi rischiamo di fare una cattiva figura siamo al 13% di guadagni e siamo soltanto noi però cioè non ci sono altri schieramenti non possiamo chiedere aiuto a nessuno ma possiamo contare solo sulla nostra forza molto bene perdiamo 5 province e ne vinciamo altrettante più una 2 e 3 e 4 bene finché riusciamo a guadagnare più territori di quelli che purtroppo perdiamo dobbiamo andare avanti e sperare magari che le truppe nemiche siano meno organizzate delle nostre anche perché sicuramente ne hanno di più vediamo siamo pari noi siamo avanti di 3 ok questo è turno nostro se non fosse che abbiamo perso qualche territorio era quasi interamente turno nostro benissimo attacchi per colmare i piccoli buchini rimasti e nel frattempo cercare di spingere al nord per conquistare le terre rimaste vediamo subiamo qualche attacco ma nel frattempo recuperiamo ammetto che forse tutti questi debiti non fanno bene alle nostre tasche però è l'unico modo che abbiamo adesso io proverò un'altra pace al volo nella speranza magari di risolvere vediamo io continuo a chiedere tutta la coda della fenice qua questa zona la chiamerò coda di fenice già l'avete capito quindi gli chiedo tutta la coda della fenice territorio al sud è questo niente lì piano piano verremmo asfaltati data l'assenza di truppe e dobbiamo iniziare anche a ripiegare un po' le unità offensive schierate perfetto se coda di fenice si può avanzare ancora? si possiamo magari prenderla tutta la coda di fenice per il resto boh dobbiamo ripiegare e aspettare anche perché senza denari non si può combattere una guerra ma questo direi che è ovvio beh entrambe le nazioni sono messe male noi abbiamo più territori di loro e gli abbiamo fregato 40 province neanche poche quindi ecco la coda di fenice ormai è praticamente nostra ma non abbiamo più molte truppe per affronteggiare i nemici quindi forse un po' devo iniziare a sperare di ripiegare qui le facciamo avanzare poco alla volta e durante questo turno ripiegheremo un attimino perfetto tristemente perdiamo una zona molto buona per gli attacchi ma quasi conquistiamo la coda di fenice e i territori a nord quindi altre truppe libere che potranno andare a combattere qui perfetto dopodiché mandiamo un ultimo assalto qui e poi richiamiamo all'ordine anche le truppe della coda della fenice che dovranno assolutissimamente dare una mano prossimo turno devo controllare quanti si sono salvati perché ve lo dico abbiamo perso troppi uomini già non ne sono rimasti tantissimi e lì che si stiene espandendo non è che sia proprio il massimo va perfetto modalità mappe esercito sono rimasti 3000 confederati a combattere urca 3000 sono tanti? no no che non lo sono perché sono le uniche forze che abbiamo quindi oddio non siamo messi minimamente bene attenzione però perché lì devono attaccare in 11 e qui devono attaccare in 12 se no l'attacco non è confermabile perfetto e vabbè qua l'unica cosa rimasta da fare è sperare che le 700 truppe rimaste reggano tristemente riperderemo Montgomery ma non ho abbastanza soldati per difenderlo loro stanno iniziando a riguadagnare perché hanno adesso 39 province perse anziché 40 che oddio non significa qua praticamente nulla però se abbiamo la forza possiamo fermarli loro posseggono ancora grandi unità ma anche noi non scherziamo devo usare molta strategia qui per combattere bene ragazzi finalmente dopo tanto tempo torniamo col botto con una serie davvero bella gran parte dei territori occupati li perdiamo ma noi facciamo comunque la nostra parte vi dico già che questo sarà l'ultimo turno prima della fine del video che però appunto proveremo come al nostro solito a concludere con una pace quindi potendo prenderla tutta la coda della fenice vorrei fosse passata a noi non potremmo forse sfruttarla per combatterci ma almeno la useremo per evitare ulteriori problemi occupiamo lo stato confederato occupiamo anche quest'altro stato e ci riprendiamo questi due territori dopodiché proviamo nuovamente a azzannare i nemici così stiamo perdendo forse le ultime unità rimaste in vita ma dobbiamo proseguire nel nostro scontro qui è rimasto qualcuno si 148 truppe e soltanto 2775 truppe sono ancora vive niente ho dimenticato a salvare quindi avrete l'onore di godervi un turno extra rispetto ai miei conti ecco ve l'ho servito adesso poi se riuscissi ad accucchiare o meglio accucchiare in termine siciliano se riuscissi a unire a sommare un numero decente di truppe potrei sferrare un attacco ma questa è un'altra storia bene adesso possiamo prendere tutti questi territori qua che mi interessavano più la coda di cenice che dovrebbe consumarmi troppo ma non troppissimo lasciando stare qualche piccolo bug grafico abbiamo raccolto tutti i territori nella coda di cenice e sono rimasti 5 stelle da prendere e queste prenderemo il gioco lo abbiamo salvato eventualmente e via ah giusto dobbiamo perdere ancora 1 2 territori siamo pari siamo pari di nuovo siamo sotto di 2 siamo pari siamo sopra di 1 ok ragazzi con 44 province occupate la guerra era necessaria ma gli stati confederati del sud adesso sembrano gli stati confederati dell'ovest e quelli del nord sembrano quelli dell'est ma una lunga guerra ci aspetta e solo un vincitore ci sarà in 67 turni ci siamo già scannati un bel po' a difficoltà estrema quindi non rimane molto molto da fare e va bene ragazzi spero il video vi sia piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanellina per seguire le novità lasciate tanti tanti mi piace passate dal server discord dal canale twitch dal canale di tntfy l'autore della copertina di questo video credo nuovo copertinatore del canale detto ciò è davvero tutto noi ci vediamo con un prossimo video